Melissa P, film erotico tratto da un libro erotico che ha fatto un successo spaziale in Italia un libricino piccolino, il film stranamente tiene testa al libro, non sarà mai come un libro perché un libro è un libro, però è fatto abbastanza bene, 7.4 al momento lo trovate in chiaro su Prime Video, non è spettacolarissimo, non è tinto brass però è un buon filmettino, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, su Prime Video l'ho già detto un saluto a tutti, ciao ciao